Questa è la seconda opzione per poter utilizzare l'Helmet Holder della Mie, sullo zaino della stessa marca. Lo fanno in varie taglie, la Mie è la 45 più 10 litri. E l'utilità di poterlo mettere anche sulla patta, sulla patta di visura superiore, dove ci sono sempre 4 asole, e che si riduce l'ingombro in profondità. Potrebbe dare fastidio urtando contro la testa, magari. Sarà da provare anche questo in marcia. Comunque sembra anche qui stabile la facilità di agganciarlo e di rimuoverlo. Insomma sembra un prodotto che faccia il suo lavoro.